L'Avellino è pronto a calare un trist di acquisti. La prossima settimana sarà particolarmente importante in Casa Biancoverde con i dirigenti erpini che hanno già in agenda diversi appuntamenti. Prima tappa è la capitale con l'Avellino che andrà a definire quello che può davvero definirsi un vero e proprio colpo di mercato, ovvero Riccardo Marchizza. Il promettente difensore centrale arriverà con la formula del prestito con diretto di riscatto e contro riscatto. Nonostante il pressing di altri club, la Roma ha scelto l'Avellino per la valorizzazione del baby classe 98 che ha fatto faville con la formazione primavera. Gli ottimi rapporti con i giallorossi porteranno in erpini anche il terzino sinistro, Nicola Falasco di proprietà appunto della Roma, ma visto quest'anno con la maglia del Cesena. Con Falasco l'Avellino sistema così già la fascia mancina dopo l'ufficialità di Rizzato. Accordi praticamente raggiunti ma che ora ovviamente necessitano del nero su bianco che meno di clamorosi colpi di scena arriveranno. Nelle ultime ore sembra esserci stato un inserimento anche dell'Ascoli che vanta ottimi rapporti con la Roma, ma i giallorossi potrebbero girare altri elementi nelle marche come ad esempio proprio un ex Avellino, Daniele Verde. Chi sicuramente vestirà la maglia bianco verde Francesco Di Tacchio, il centrocampista ex Pisa, ha da tempo raggiunto l'accordo con i Lupi per un contratto biennale. Bisognerà però pazientare per l'annuncio ufficiale visto che solamente il 30 giugno Di Tacchio potrà considerarsi svincolato. L'arrivo di Di Tacchio comporterà necessariamente un'uscita in mezzo al campo con Fabrizio Paghera che resta sempre l'indiziato principale con il procuratore di entrambi i centrocampisti, Mario Giuffredi, che lavora sul doppio binario. L'Avellino è in agenda comunque anche degli incontri a Milano per la questione portieri. Lezzerini potrebbe restare, ma un passo fondamentale sarà il 21 giugno quando si saprà se il Cittadella eserciterà l'opzione per Arrighini.